ciao a tutti e bentornati ancora una volta su application premium in questo nuovo tutorial bisogna fare un vasettone soreale l'occorrente per questo progetto è un vasettone della nutella acrimi con i vari colori con spugno o pennello un'immagine di un fiore con la vinica e pennello allora iniziamo colorando il nostro vasettone e e e e e e A presto. A presto. Quando avete finito lasciate asciugare. Dopo che il nostro vasetone è asciutto possiamo incollare la foto. Allora, gilliamo. Mettiamo un po' di colla vinica e la spandiamo per bene con il pennello. La incolliamo e lasciamo asciugare. E ora vi iniziamo il nostro vasetone con lo smalto spazio prete. E lasciamo finire. E il nostro vasetone è pronto. E potete decorare anche con un vasetto piccolino. Sempre il vasetto è una notella, ovvio. Bene, per ora è tutto e ci vediamo al prossimo. Storia. Ciao!